ancora degrado e rifiuti per le strade di torre del greco nessun miglioramento per quanto riguarda la situazione rifiuti nel comune corallino tante le segnalazioni dei cittadini che vivono una situazione di disagio perenne soprattutto in zona porto le sue traverse si assiste alla nascita di una vera e propria discarica si trovano scarti di plastica lattine e sacchetti di immondizia sparsi avunque in strada e ad ogni angolo camminando per queste zone si notano subito le esalazioni emanate da questi rifiuti che mettono a rischio la salubrità dell'intera zona soprattutto con il caldo degli ultimi giorni è impensabile che determinate tipologie di rifiuti restino ore sotto al sole la cosa che più fa scalpore sono come al solito gli ingombranti elettromestici rotti televisori pezzi di mobilio e materassi regnano per le strade cittadine rendendo i cassonetti e talvolta l'intera zona di raccolta del rifiuto inagibile soprattutto per coloro che devono semplicemente gettare un sacchetto tutto è ovviamente aggravato dal fatto che sia lunedì mattina come è stato più volte spiegato la domenica non vengono ritirati i rifiuti e quindi il sabato non bisognerebbe depositarli nonostante l'inciviltà di molti però è necessario organizzare un servizio che possa sopperire evitando disagi e pericoli legati al caldo grazie a tutti